I tempi sono molto stretti per cercare di capire come viene fatto l'esproprio, quali parametri vengono utilizzati, come vengono risolti alcuni problemi abbastanza seri che si vengono a creare per delle realtà vivaistiche che sono proprio direttamente affacciate sulla strada. Così Francesco Mati, vicepresidente di Confagricoltura e presidente del distretto vivaistico Pistoiese, interviene sulla questione espropi nei confronti delle aziende del Verde per l'ampiamento dell'A11. Una vicenda arrivata alle battute finali in questo caldo agosto ed appresa solo pochi giorni fa dagli operatori del settore attraverso la stampa e che sta generando preoccupazioni tra le realtà direttamente coinvolte. In un primo momento è stata accolta come una buona notizia perché sappiamo quali sono i problemi della viabilità del traffico pesante a Pistoia e quindi un raddoppio, una terza corsia e una nuova uscita sono sicuramente qualcosa che può essere utile alla cittadinanza e al vivaismo. Sulle modalità rimane un pochino qualche perplessità di una comunicazione che abbiamo appreso fra ieri sera e stamani essere ufficiale quella fatta sulla stampa e quindi vuol dire che a tutti i proprietari dei terreni interessati dalla terza corsia non arriverà una comunicazione di esproprio. I tempi sono però strettissimi a sottolineato Mati che ha annunciato ai microfoni di TVL alcune iniziative in merito. Stiamo cercando di organizzare una conferenza stampa come Confagricoltura per aggiornare tutti i nostri associati che sono interessati da questi espropri. Parallelamente come distretto oggi cercherò di prendere contatti con le istituzioni per capire se anche a livello distrettuale occorre fare qualche cosa. Questi espropri cosa vorranno dire per i vivaisti? Vuol dire in alcuni casi stravolgerne completamente la viabilità e l'accessibilità. Diciamo in parole povere si perdono anche delle servitù. Il discorso può essere semplice in alcuni casi dove l'azienda perde una striscia di terra che viene rimborsata. Bisogna capire che tipo di valore viene dato al materiale che è presente sul terreno perché c'è anche questa questione. Il soprassuolo bisogna capire se nei tempi e nei modi c'è la possibilità oggettiva di svuotare la parte di vivaio se è a vasetteria o di valutare anche il soprassuolo se ci sono piante che non è possibile spiantare. E dall'altra parte vanno valutate anche le servitù. Cioè ci sono delle aziende che si vengano a trovare la strada a 5 metri dalla finestra dell'edificio. Ora in quei casi bisognerebbe cercare di capire un pochino meglio che tipo di soluzioni si possono trovare per non dequalificare l'attività di un'azienda. Chiederete un incontro con autostrade? Ancora è prematuro. Sto cercando di raccogliere il più informazioni possibili anche perché ieri ho parlato con uno studio legale di Pistoia e ho parlato con l'avvocato Fabio Canizzaro il quale mi diceva che i tempi sono strettissimi e che occorre veramente fare presto.